Sono Stefano Benni, da molti anni appoggio le iniziative di Medici Senza Frontiere e se loro mi dicono che una situazione è molto grave, io gli credo. Un'epidemia di Ebola senza precedenti ha colpito l'Africa occidentale. Aiuta Medici Senza Frontiere a fermare questa epidemia e a salvare vite umane. Manda un sms o chiama attraverso rete fissa a questo numero 45507 Grazie